Gli studenti delle scuole superiori non torneranno a scuola prima del 18 gennaio, non in presenza almeno. Mentre le regioni confermano di andare in ordine sparso, scegliendo ognuna un proprio calendario, anche il Piemonte si disallinea dal governo che ha autorizzato il rientro al 50% dei più grandi dall'11 gennaio. Se da un lato infatti la nuova ordinanza del governatore Cirio confermerà il ritorno in classe in presenza dal 7 gennaio per le primarie e le secondarie di primo grado, elementari e medie, dall'altro manterrà la didattica a distanza al 100% alle superiori fino al 16 gennaio, ad eccezione degli studenti con esigenze speciali e delle attività di laboratorio. Per tutti, come si è detto, il ritorno in classe in presenza è previsto a partire dal 18 gennaio, sempre compatibilmente con l'andamento dell'epidemia. In queste settimane, ha sottolineato Cirio, il prezioso lavoro coordinato dalle prefetture con la collaborazione degli enti locali e di tutto il mondo della scuola piemontese, ha portato alla definizione di un piano di organizzazione dei trasporti operativo per garantire il ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori sia al 75 che al 50%. Il Piemonte, insomma, sarebbe pronto anche a partire, ma l'attuale quadro epidemiologico impone prudenza di fronte al rischio di una nuova ondata che bisogna assolutamente contenere.